Grazie a tutti. La vertenza riguarda una vertenza sviluppata all'interno della Ruzzoreti, lì dove la percentuale di lavoratori somministrati rispetto al numero dei lavoratori totali supera di molto quelle che sono le percentuali indicate nel contratto collettivo nazionale applicato in questo caso dall'utilizzatore, dalla Ruzzoreti. Il fenomeno è diffuso naturalmente sia nel pubblico che nel privato. Le conseguenze di questa sentenza in questo senso si differenziano. Nel privato possiamo immaginare di intraprendere già percorsi di stabilizzazione di questo personale interinale usato ormai da anni sempre dallo stesso utilizzatore. Mentre nel pubblico, per una disciplina diversa di accesso al lavoro pubblico, di fatto siamo di fronte ad una possibile sentenza di natura risarcitoria che vanno dalle 2,5 mensilità alle 12 mensilità. L'avvertenza era stata promossa dalla categoria di settore della CGL a tutela di un lavoratore nei confronti dell'azienda utilizzatrice Ruzzoreti S.P.A. e delle agenzie di somministrazione, in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro dopo più di 5 anni di attività. La reiterazione di contratti per lo svolgimento di attività ordinarie non è possibile, cioè bisogna avviare le stabilizzazioni. Quindi qualcuno si dovrà rendere conto, l'azienda è l'ersi, che non è più possibile tenere 100 persone con contratti precari di durata pluriennale, per non dire ultradecennale. Parliamo di casi di lavoratori di 10-12 anni di storia lavorativa, ma questo è un vizio che non solo alla Ruzzo, anche in altri enti pubblici è piuttosto diffuso.